vi aspetto tutti a ottobre ad assisi vi aspettiamo al convegno di assisi ad ottobre quest'anno assisi si parla di umanità ad assisi partecipanti c'è ad assisi a ottobre non perditi l'occasione viene con noi aspettiamo ad assisi madeline madame tutte d'assisi a ottobre vi aspetto ad assisi a ottobre come padrona di casa vi invito ad assisi la mia terra per il convegno di ottobre ad assisi dal 19 al 21 ottobre vi aspettiamo ora ragazzo da non avvicinò tutto ad assisi cui è come amico il signore vi invita tutte ad assisi e se non venite ai 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 ai